Approfittando dello stage di allenamenti in programma a Cagliari dallo scorso 24 agosto e fino a lunedì 31, i sei pugili della nazionale italiana, reduci dai campionati europei di Samokov in Bulgaria, hanno fatto visita al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Il primo cittadino ha fatto gli onori di casa ricevendo nel suo ufficio del Palazzo Civico di Via Roma il tecnico Maurizio Stecca, campione olimpico a Los Angeles 84, e sei degli otto atleti selezionati da Raffaele Bergamasco, head coach della squadra azzurra, per il training camp che si sta svolgendo tra il capologo Sardo e Assisi. Insieme all'isolano Manuel Cappai delle Fiamme Oro, erano presenti il capitano azzurro Vincenzo Mangiacapre delle Fiamme Azzurre, Vincenzo Arecchia e Salvatore Cavallaro, entrambi in forza alle Fiamme Oro, e i due rappresentanti del gruppo sportivo dell'esercito italiano, Francesco Maglietta e Stefano Damiano Capone. Al termine della chiacchierata, che ha toccato i temi dell'importanza dell'attività sportiva e dei problemi legati spesso alle strutture dove svolgerla, ma si è allargata anche all'aspetto fondamentale di regole e disciplina, il sindaco Zedda ha consegnato al tecnico Maurizio Stecca una medaglia con il simbolo della città di Cagliari.